Oggi vogliamo parlarvi di una nuova minaccia che riguarda gli oceani e i mari di tutto il mondo, è quello che si chiama il Deep Sea Mining. Di cosa si tratta? Ci sono dei minerali e dei metalli in particolare, preziosi e anche rari, che si trovano sul fondale marino a grandi, grandi profondità. Noi stiamo sfruttando le risorse della terra in maniera molto veloce, appunto da portarle all'esaurimento e la nuova frontiera è andare a cercare questi minerali sul fondale marino. Ci sono molti stati già interessati a questo tipo di concessioni minerali vere e proprie, sono 16 stati al momento, e già diverse aree del mare che sono state in qualche modo lottizzate per poter accedere a questo tipo di ricerca e di prelievo. Qual è la preoccupazione? La preoccupazione è che noi andiamo a effettuare delle operazioni di mina, quindi di raccolta di minerali su un ambiente che non conosciamo per niente, un ambiente di grande profondità che è rimasto non toccato per sempre, in realtà dall'inizio della storia della terra, sul quale non sappiamo bene quali possono essere le conseguenze. Sappiamo per certo, per esempio, che andare a prendere questi minerali creerebbe delle grandi colonne di polveri che poi si andrebbero a spargere per il mare e a ridipositare sul fondale, che potrebbero intaccare risorse ambientali e biodiversità per spazi molto ampi. Quindi c'è una grande preoccupazione sulle conseguenze e per una volta vorremmo che venisse applicato il principio di precauzione, cioè prima di muoverci capire bene quelle che potrebbero essere le conseguenze per l'ambiente, anche perché c'è una preoccupazione importante, per esempio, anche dei settori economici, come quello della pesca, che potrebbero vedere intaccate le risorse di cui loro vivono a causa delle conseguenze di questo prelievo di minerali e di metalli su questi ambienti. C'è un grande interesse su questa questione e noi abbiamo organizzato qui al Parlamento europeo un evento, un incontro, un convegno per poterne parlare con scienziati, esperti, ma anche con appunto portatori di interesse come per esempio le categorie della pesca. Abbiamo iniziato un dibattito, una discussione e seguiremo nel tempo l'evolversi di questa discussione perché è qualcosa di importante che sta lavorando, diciamo, sotto traccia, ma che potrebbe minacciare degli ambiti che sono molto importanti. Tante cose che riguardano il nostro mare e il nostro oceano, questa è una di quelle che si potrebbe provare a fermare o comunque a regolamentare prima ancora che inizi, seguiremo i lavori e vi terremo informati.